In un momento difficile per tutti e per il paese, vedo che c'è qualcuno più interessato ad alzare polemiche inutili sul movimento, qualcuno che presta il fianco a una stampa che ci ha sempre disprezzato, che lo fa rincorrendo il suo ego, la propria visibilità, disinteressandosi di tutto quel che sta accadendo intorno a noi. Così su Facebook Luigi Di Maio. Lo dico chiaramente. Qui nel Movimento 5 Stelle si lavora per cambiare il paese. Chi è interessato a fare il gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito. Il movimento è un'altra cosa. Il movimento si occupa dei problemi delle persone. Il movimento è quella forza politica, lo ricordo per chi non l'avesse ancora capito, che taglia le poltrone in Parlamento, che non prende tangenti sulle opere pubbliche e che quando fa una scelta di politica economica la fa pensando all'ambiente e alla salute di tutti noi, ha aggiunto Di Maio.